Salve Claudio Bianco, sindaco da giugno scorso di Front Canavese, provincia di Torino ovviamente. Sono qua oggi per incontrare il Presidente Saitta che ci dà questa opportunità di dialogo con i piccoli comuni come il nostro, sono 1600 anime. Oggi al Presidente porterò come punto di attenzione il nodo della viabilità. Il nostro territorio da anni patisce la presenza di un traffico pesante sul concentrico, sul capoluogo. Analizzeremo con lui, partendo già da ragionamenti fatti in passato o con le precedenti amministrazioni, le azioni da fare per concretizzare una soluzione al problema. Questo è il mio punto di attenzione primario. Su altri fronti secondari, e ce ne sono anche molti, ci coordineremo con i servizi relativi. Grazie.